Ciao a tutti! Ciao! Allora questa volta mi trovo nell'auditorio vitale dentro il Conservatorio di Avellino insieme a un meraviglioso collega Dario Russo, che è la prima volta che abbiamo l'occasione di cantare insieme e io sono molto felice, anche tu vero? Molto! Bravo! Molto, molto emozionato! Anch'io! Allora, questo nostro pomeriggio di musica praticamente è dedicato all'anniversario dei 50 anni di attività del Conservatorio di Avellino e noi siamo molto felici di essere stati invitati, perché quello che sembrerebbe un piccolo concerto invece ha una importanza grandissima, perché l'orchestra del Conservatorio, che è composta da giovanissimi, suona per la prima volta dei pezzi d'opera così importanti che noi eseguiremo e sono stati formati dal maestro Carlo Colsen, che ha fatto un lavoro eccellente, però che è successo? che questa energia, questa felicità, questa emozione che i ragazzi hanno avuto ha investito pure noi due, è vero? Di brutto ci ha investito! Di brutto, per cui siamo emozionatissimi, perché ci sentiamo anche la responsabilità di introdurre questi ragazzi al mondo dell'opera, no? E anche perché abbiamo scelto dei pezzi belli impegnativi, però dai, insomma, bisogna fargli tanto queste sfide, Mozart, Verdi, grandi, grandissime arie, e quindi, niente, siamo molto felici, fra poco inizia il nostro concerto, vi faremo vedere un po' di parti poi, e niente, vi salutiamo perché andiamo a prepararci adesso, giusto? Sì, in bocca al lupo, Patrizia! In bocca al lupo, Dario, sono molto felice di essere la tua partner oggi, a prestissimo! A presto! 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 A presto!